Dopo un intero pomeriggio di contatti tra la sede della Lega Pro di Firenze e quella del Coni di Roma, si va definendo una decisione in merito al caso Taranto. Il ricorso presentato dai pugliesi riguardante la penalizzazione di quattro punti in classifica verrà discusso dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni nella giornata di venerdì 3 maggio, a partire dalle ore 14.30, esclusivamente in modalità telematica mediante videoconferenza. I tempi brevi sono stati resi possibili anche dalla collaborazione offerta dal Taranto nella persona delle gare di fiducia, l'avvocato Chiacchio, che ha accettato la riduzione dei tempi per presentare le sue memorie. L'Avellino scenderà in campo il prossimo 21 maggio per la gara di andata dei quarti di finale. Tutte le partite degli spareggi promozione sletteranno quindi di soli tre giorni, con inizio il prossimo 7 maggio. Rimarrà invariata solo la data del ritorno della finalissima che vale la serie cadetta. L'ultimo atto di andata si giocherà il 5 giugno, quattro giorni dopo il ritorno che rimarrà domenica 9 giugno. Grazie. Grazie.